In particolare abbiamo una riserva naturale dal 2006, questa riserva naturale regionale orientata dei laghi di Conversano e della Gravina di Monsignore, è giusto che sia fruita da tutti perché presenta delle particolarità a livello di biodiversità, ma non solo, anche dal punto di vista storico-archeologico, peculiari. Anzi, proprio nel sito che visiteremo oggi pomeriggio, Torre di Castiglione, presenta entrambe queste caratteristiche. È una collina boscata a 5 km da Conversano in cui è presente anche un villaggio di epoca medievale, i resti ovviamente di un villaggio di epoca medievale. Quindi è proprio all'interno di questo luogo che è palpabile il connubio tra gli aspetti culturali, storici, archeologici e quelli naturalistici e ambientali. Quindi io voglio ringraziare l'Università di Bari, in particolare la scuola di specializzazione in beni archeologici, laboratorio di storia e critica della museologia e museografia. Abbiamo il professor Lastilla, che adesso tra un minuto inviterò a portare i saluti anche da parte della scuola di specializzazione. È la ICOM Italia, la Commissione tematica per l'accessibilità museale e avremo Dario Scarpati da oggi, quindi oggi e domani sarà con noi. L'evento è patrocinato dal comune di Conversano, ha il patrocinio anche del SAC, che è un grande progetto regionale per mettere in rete i beni culturali e ambientali. E su questo tema, a 5 minuti, ce ne parlerà il dirigente del settore cultura di Conversano, ex dirigente però ancora attivo in questo campo, Domenico Matarrese, che inviteremo appunto a parlare 5-10 minuti sugli obiettivi del SAC. Quindi il SAC appunto prevede una messa in rete dei beni culturali e ambientali, dal cui l'acronimo Sistemi Ambientali e Culturali, dei territori di Conversano, Rutigliano, Molladibari e Polignano a Mare. Abbiamo terminato la progettazione esecutiva e quindi a breve verranno messi in moto tutte le linee che collegheranno i vari beni e anche l'animazione legata a questi beni molto importanti presenti su questi quattro comuni. È patrocinato anche dalla Lama degli Ulivi, che è un giardino botanico di Monopoli, e ci richiederemo lì domani pomeriggio per discutere anche sull'accessibilità dei giardini e orti botanici con la professoressa Mattavelli dell'orto botanico di Brera. E ovviamente siamo stati appunto sostenuti, è stato possibile realizzare questo laboratorio dal basso appunto grazie alla Regione Puglia e all'Arti Puglia, appunto come vi dicevo prima. Con noi oggi abbiamo Dino Angelaccio, che è dell'Università di Siena, e quindi con lui affronteremo, entreremo proprio nel vivo di questo tema appunto. Ora io inviterei il professor Lastilla a portare il saluto da parte della scuola di specializzazione e poi magari un piccolo saluto anche da parte della Regione, perché abbiamo con noi Flavia, quindi magari se ci porti questo saluto. Grazie, allora intanto buongiorno a tutti, vi ringrazio intanto di essere qui oggi in questa iniziativa che credo sia molto interessante e importante per appunto favorire un rapporto fra scuola e territorio, fra scuola e istituzioni, fra scuola in senso lato, ma in questo caso mi riferisco alla scuola di specializzazione in beni archeologici e dell'Università di Bari, di cui sono docente di museologia e museografia. Poche parole, solo per dire che abbiamo voluto con estrema insistenza e devo dire non senza qualche difficoltà, i colleghi, amici, ragazzi qui presenti, Claudio Litturri, Maurizio Pastore, Aura Raccioppi, hanno come dire fatto uno sforzo importante per organizzare, per diciamo promuovere questa iniziativa, cioè metterla in campo e per portarla avanti in un ambito istituzionale come quello dell'Università, trovando tra l'altro non tanto una diffidenza da parte nostra, anzi diciamo che noi come docenti abbiamo subito visto favorevolmente questa apertura, questa disponibilità poi anche di collaborare con le istituzioni regionali, dire poi qualcosa anche su questo. Ma devo dire anche una diffidenza molto ampia fra i giovani, fra i giovani che frequentano per esempio il mio corso di museologia e museografia, lo stesso laboratorio che io ho voluto fortemente mettere in piedi nell'ambito della scuola di specializzazione, laboratorio che cerca di superare un gap che l'Università io credo ha forte e cioè quella di coltivare gli specialismi ma non coltivare l'integrazione dei saperi, della conoscenza e soprattutto di mettere a disposizione questi saperi, questa conoscenza verso quelli che sono poi i protagonisti, siete voi, sono i giovani, sono coloro i quali è affidato il compito di costruire il futuro di questi territori delle nostre città e del nostro paese. Ecco io credo che questa iniziativa come altre che la Regione Puglia sta facendo con i laboratori dal basso ma anche tutta una serie di cose che la Regione ha messo in pista attraverso Bollenti Spiriti e altro ancora. Il tema di Smart Puglia, io lo sto seguendo per altri versi perché è un tema che ci intriga perché mi occupo anche di ricerca e innovazione, quindi sono tematiche sulle quali c'è in questo momento una grande attenzione, sulle quali io vi invito caldamente a essere attenti, a guardare con attenzione non perché da ciò verrà la soluzione dei vostri problemi individuali ma sicuramente il fatto che voi possiate a partire da oggi, ma nei prossimi mesi, nelle prossime settimane incrociare una volontà politica, istituzionale, organizzativa di istituzioni che finalmente si confrontano con i temi concreti della programmazione, dell'intervento sui territori soprattutto in riferimento ai beni culturali, ai beni ambientali, alla natura, alla cultura e quindi si crea finalmente un circuito virtuoso che mette insieme competenze e saperi diversi ma mette anche insieme volontà, espressioni, bisogni che vengono dai giovani che cercano risposte. Ecco, io credo che questa occasione che noi come laboratorio di storia e critica della museologia e della museografia abbiamo fortemente voluto, io mi sto impegnando insieme ad altri giovani a far sì che con la regione Puglia si firmi un protocollo d'intesa con la scuola di specializzazione in beni archeologici in discussione con l'assessore Barbanente questa bozza che abbiamo già preparato stiamo avviando delle collaborazioni con alcuni comuni come Monopoli e come Grottaglie proprio per cercare di andare verso un rapporto fra il momento della formazione nell'università è però la disponibilità che questa formazione abbia davvero un confronto con il territorio io credo che i temi di oggi siano di estremo interesse il tema dell'accessibilità è un tema importante l'accessibilità significa aprire i luoghi della cultura, i luoghi del sapere, i luoghi della conoscenza ma anche se vogliamo i luoghi del vissuto, del vissuto storico ma anche del vissuto quotidiano aprirlo a tutti coloro i quali hanno la necessità di fruire e di conoscere questa tematica è oggi molto importante per allargare i soggetti che possono essere coinvolti in politiche diciamo nuove, interessanti e soprattutto politiche inclusive noi abbiamo bisogno di aprirci, di aprire la società la società ha bisogno di avere una visione più ampia, una partecipazione più ampia e i laboratori dal basso in fondo sono questo io credo nell'associazionismo, sono stato quando ero giovane un po' più giovane di voi, presidente della regione dell'Arci che è un'associazione che tutti quanti credo conoscono o almeno l'avranno sentito parlare per cui credo che la partecipazione e però anche l'organizzazione nella partecipazione sia fondamentale quindi buon lavoro a tutti io cercherò di essere presente in queste giornate per seguire questi lavori che a me personalmente interessano perché sono anche per me una occasione di conoscenza di, come dire, in qualche maniera di apprendimento ecco, io credo all'apprendimento continuo, alla formazione continua e credo che ogni momento è buono per imparare qualcosa da qualcuno grazie bene, come diceva appunto il professor Lastilla un'occasione per l'apprendimento e noi come associazione da quando siamo nati 5-6 anni fa con principi attivi quindi il bando della regione Puglia uno dei nostri forse primi obiettivi e probabilmente il filo conduttore della nostra attività è proprio quello di rendere più accessibile la scienza quindi magari anche in questo caso rientra il tema dell'accessibilità e quindi, perché no, rendere accessibili i luoghi ma anche i contenuti sostanzialmente quindi un'accessibilità alla scienza che diciamo così cerchiamo di fare da diverso tempo lascio giusto due minuti a Flavia per un saluto da parte della regione grazie buongiorno a tutti io sono Flavia Giordano e rappresento l'Arti Laboratori dal Basso e volevo giusto spendere due parole su questa iniziativa che sta ormai arrivando alla sua conclusione le attività infatti si svolgeranno fino al 30 novembre Laboratori dal Basso è un nuovo modo di fare formazione è un'azione sperimentale della regione Puglia e si chiama appunto dal Basso perché a differenza di qualsiasi corso qualsiasi attività didattica che diciamo viene realizzata e poi promossa quindi diciamo con un approccio dall'alto per cui prima si decide il corso e poi si chiamano i partecipanti Laboratorio dal Basso è diverso perché sono gli stessi partecipanti che si mettono insieme e esprimono il loro fabbisogno di conoscenza ed organizzano un corso sulla base appunto delle loro esigenze in questo caso esigenze imprenditoriali e questo è appunto il caso di Polixeno come diceva Enrico un'associazione che nasce una delle associazioni storiche che sono nate con principi attivi e che sta continuando il proprio percorso di crescita imprenditoriale o comunque di attivazione di associazione quindi il laboratorio di oggi è fortemente voluto perché è stato pensato come momento di crescita innanzitutto di questa realtà e dei soggetti che orbitano intorno quindi diciamo questa è la peculiarità non mi dilungo ancora perché potete trovare tutte le informazioni di Laboratori dal Basso sul sito www.laboratoridalbasso.it vi invito a frequentare questo sito e anche la pagina Facebook per seguire tutte le altre attività che stiamo realizzando in contemporanea in tutta la Puglia e che potete seguire anche in streaming perché ci sono tantissimi corsi dal Salento all'area Tarantina all'area Dauna su veramente tantissime tematiche da approfondire e che potete seguire anche da casa in remoto sul sito www.laboratoridalbasso.it stiamo lavorando perché questo sito sia anche poi una biblioteca virtuale quindi tutti questi corsi tutti questi laboratori li saranno caricati in maniera permanente sul sito di Laboratori dal Basso e quindi voi potrete anche seguirli più in là quindi veniteci a trovare sul sito e niente buon inizio e passo così ok grazie bene e allora finalmente entriamo proprio nel vivo quindi invito Dino Angelaccio dell'Università di Siena ad avvicinarsi a presentarsi e a avviare diciamo così il suo il suo contributo il suo intervento grazie provo a parlare con il microfono questo strano strumento di cui mi hanno dato all'inizio buongiorno a tutti e a tutti io sono Dino Angelaccio e insieme a molte altre persone da alcuni anni mi occupo di promuovere l'accessibilità universale in particolar modo attraverso un contenitore che si chiama Laboratorio dell'Accessibilità Universale che è anche un luogo fisico ma anche simbolico dove a livello trasversale e multidisciplinare molte persone molte competenze molte idee cercano di dialogare tra di loro per promuovere anche culturalmente un tema che spesso viene confuso o frainteso perché spesso quando parliamo di accessibilità diamo per scontato che ci stiamo riferendo ad esempio ad un piccolo numero di persone tra l'altro questo piccolo numero di persone lo facciamo coincidere perché ce l'hanno scolpito nel nostro immaginario soprattutto con le persone che hanno difficoltà negli spostamenti non fosse altro per quel terribile simbologia della carrozzina stilizzata che troviamo più o meno in tutti i luoghi che dovrebbero indicare se uno spazio aperto al pubblico è più o meno accessibile che però naturalmente ci inchioda ad un'operazione culturale che tra l'altro non è assolutamente corretta non si restituisce la realtà che è quella di associare l'accessibilità e la disabilità con le persone che hanno difficoltà negli spostamenti naturalmente non è così basti pensare che quando noi progettiamo uno spazio un ambiente fisico ma anche quando noi pensiamo a un servizio pensate all'ambito turistico culturale quando scegliamo il linguaggio da utilizzare quando comunichiamo piuttosto che la metodologia formativa quando decidiamo di fare marketing territoriale insomma quando progettiamo realizzare qualunque cosa che possa essere utilizzato da altre persone abbiamo in mente il cosiddetto utente tipo questo utente tipo che è presente in tutti i nostri manuali è rappresentato nei media pensate un po' a questa specie di mostro che non ha sesso non ha età non invecchia non si ammala mai ora per fortuna o per sfortuna dipende un po' dai punti di vista questo mostro non abita i nostri luoghi nella nostra realtà per fortuna la realtà è abitata dalle persone reali come quelle che siamo qui oggi seduti a confrontarci su questo strumento e le persone reali spesso le conosciamo poco e le sappiamo rappresentare male soprattutto perché non le coinvolgiamo ad esempio a me capita spesso quando andiamo a lavorare in contesti culturali di confrontarmi con persone tra virgolette tecniche che si occupano di allestimenti museali di organizzare dei percorsi espositivi spesso quando ci approcciamo a questa tematica io mi trovo di fronte a un problema molto banale però molto serio nel senso che normalmente io mi affido a un tecnico esterno una sorta di marziano che viene e mi propone la sua soluzione non coinvolgo praticamente mai le persone che ci lavorano in quel luogo e poi magari mi vado a riprendere le chiavi di quel luogo e vedo che la soluzione che mi è stata prospettata difficilmente può rispondere ai bisogni delle persone reali e quindi bisogna interrompere questo cortocircuito perché altrimenti non solo continuiamo a non rappresentare le persone ma rimaniamo fermi culturalmente anche a quell'immagine che ci proviene da quella simbologia ma poi soprattutto di accessibilità non si occupano solamente gli architetti gli ingegneri o le cosiddette figure tecniche che magari lavorano all'interno di una pubblica amministrazione o di un'istituzione l'accessibilità è qualcosa che parla di noi se ci fate caso quella simbologia parla solo di qualcuno e parla solo a qualcuno se io vado in un luogo non ci faccio nemmeno caso invece quella simbologia dovrebbe essere sostituita semplicemente da un pittogramma o da un'immagine possibilmente semplice intuitiva che mi dice che quel luogo è comodo è amichevole è fruibile e che non mi permette solo di entrare mi permette di fruire di tutti i servizi che quello spazio mi sta offrendo perché spesso noi pensiamo che l'accessibilità coincida con l'eliminazione delle barriere architettoniche fisiche sensoriali che pur non sono importanti però spesso queste sono una proiezione fisica di quelle culturali emotive psicologiche se noi non riusciamo con un piccone questa volta sia ad abbattere queste ultime difficilmente riusciremo ad essere efficaci nell'intervenire per eliminare le altre quelle più subdole che però non coincidono solo con un gradino o con una porta la nostra normativa è una normativa molto interessante perché anche nel linguaggio presta molta attenzione se voi leggete quelle che sono le norme più importanti sull'accessibilità e sulle barriere in Italia penso alla legge 13 dell'89 e al suo regolamento applicativo che è il decreto ministerale 236 sempre dello stesso anno vi accorgerete di un elemento molto qualificante dal punto di vista linguistico e culturale che non si parla mai all'interno del testo di persone con disabilità di handicap la parola che compare all'interno del testo è chiunque quindi voi vedete che già più di 20 anni fa il legislatore si è preoccupato di far capire alle persone che occuparsi degli spazi dove viviamo dove abitiamo gli spazi della cultura vuol dire occuparsi di tutte le persone perché anche se noi pensiamo a noi stessi da un punto di vista multigenerazionale si nasce bambini si diventa adolescenti e poi anziani le nostre esigenze naturalmente si differenziano e si articolano nel corso della nostra vita e quindi solamente per questo l'accessibilità riguarda la raccolta di queste esigenze che mutano nell'arco della nostra vita io ho come maestro Fabrizio Vescovo che è un un po' il padre costituente dell'accessibilità in Italia e mi ricordo quando alcuni anni fa ci siamo occupati di confrontarci con scenari abbastanza complessi penso a Roma dove sono nato e ho vissuto per i primi 30 anni della mia vita mi ricordo quando per esempio si trattava di affrontare la problematica di come rendere accessibile i dislivelli presenti all'interno del Colosseo insomma in quegli anni era quasi sagrilego pensare di mettere le mani su quello che è il simbolo del nostro patrimonio storico e culturale se adesso voi andate all'interno del Colosseo io accorgirete che ci sono due elevatori con le pareti in cristallo trasparenti che vengono utilizzati da chiunque e che sono perfettamente inseriti anche dal punto di vista del contesto storico e ambientale a questo elemento ci tengo molto per convincere le persone che l'accessibilità è un propulsore culturale ma anche economico bisogna dimostrare che le soluzioni che si possono proporre non sono mai le uniche soluzioni ma che comunque sono soluzioni belle comode funzionali ed economiche altrimenti è difficile costringere le persone anche a fare uno sforzo mentale per calarsi in questa dimensione e io mi ricordo ad esempio sempre rimanendo a Roma che quando per esempio c'era da raccordare quel tratto di pavimentazione stradale che collega Fontana di Trevi con il Pantheon beh insomma quello è un tratto lastricato di San Pietrini i San Pietrini sono un po' il simbolo dell'inaccessibilità però sono scomodi anche se una persona indossa un taccaspillo se io come ieri ho una ligia con un meccanismo di trascinamento che fa i capricci o un passeggino e quindi lì è stato inserito all'interno di questo bellissimo tratto pedonale un corridoio largo un metro e mezzo di pietra basaltina che tra l'altro per colore ricorda anche il San Pietrino che però ha caratteristiche profondamente differenti e semplicemente non si scivola non gela non ha asperità e se voi passeggiate anche in questi giorni in questo bellissimo tratto della città di Roma vi accorgerete che tutte le persone camminano all'interno di questo percorso semplicemente perché è più comodo poco tempo fa mi è capitato di andare con mia figlia io ho una figlia che da poco compiuto 8 anni all'Uvra di tornare all'Uvra e di tornare a vedere quella bellissima soluzione sull'accessibilità che all'interno della piramide dell'architetto Pei è inserita all'interno di una scala leicoidale cioè un elevatore cilindrico a scomparsa nel pavimento ma la cosa che notavo con curiosità e anche piuttosto divertito è che l'ingresso all'elevatore coincide con l'ingresso alle quattro sezioni dell'Uvra ebbene c'era più fila per utilizzare l'elevatore di quella per entrare nelle quattro sezioni dell'Uvra e la gente che faceva la fila non si lamentava aveva anche la gioia di fare una fila normalmente ci crea un po' di disagio perché perché quell'elemento pensato progettato realizzato per superare un dislivello è così bello che è diventato esso stesso un'opera d'arte che noi quindi non solo utilizziamo ma apprezziamo ne apprezziamo l'estetica oltre che la funzionalità e l'estetica è un elemento molto importante perché noi dobbiamo dimostrare ai detrattori dell'accessibilità che quando si lavora sull'accessibilità di un luogo soprattutto un luogo della cultura o un luogo turistico l'accessibilità è un valore aggiunto per quel luogo non è una diminuzione non c'è qualcuno che con un piccone viene a distruggere una parete c'è qualcuno che in maniera creativa cerca di interpretare positivamente e creativamente la normativa in Italia noi siamo ossessionati dall'essere a norma essere a norma non vuol dire assolutamente nulla la normativa sulle barriere in Italia va interpretata positivamente deve essere un pretesto ideativo e creativo per trasformare i vincoli in opportunità e la normativa non prevede standard dimensionali assoluti sono 25 anni che all'università della sapienza facciamo sempre lo stesso master che si chiama progettare per tutti senza barriere in questo master normalmente partecipano mediamente circa 250 persone sono tantissime la maggioranza di loro sono ingegneri architetti che hanno appena completato il loro ciclo di studi e che non hanno mai affrontato il tema dell'accessibilità e quindi il problema riguarda anche i curriculum didattici il problema riguarda anche l'università io sono particolarmente felice di essere qui oggi e anche di aver ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto proprio perché la formula che ha pensato la regione e che hanno raccolto gli organizzatori è esattamente la metodologia che noi proponiamo come leva di utilizzo dell'accessibilità e come propulsore di sviluppo di nuove strategie territoriali perché una cosa bisogna farla emergere all'inizio della nostra riflessione comune l'accessibilità conviene anche da un punto di vista banalmente tra virgolette economico qualche giorno fa il capo dipartimento dell'Unione Europea di Turismo e Cultura che è un finlandese Jean Friedman ha fatto emergere i dati sull'accessibilità dell'ultimo triennio quindi sono dati abbastanza consolidati la cosa molto interessante è che quando lui li ennucleava insomma le persone strabuzzavano un po' gli occhi perché? perché lui ci ha raccontato di come chi ha investito sull'accessibilità negli ultimi tre anni sia nella filiera naturale Turismo e Cultura ha aumentato le presenze in una forbice che va dal 28 al 35% e ha aumentato il proprio fatturato in una forbice che va tra il 28 e il 32% stiamo parlando quindi di numeri che non hanno bisogno di essere interpretati nel senso che si presentano da soli e sono così efficaci che ci dovrebbero costringere ad assumere questo paradigma dell'accessibilità come una cosa da considerare seriamente anche per l'economia del paese tant'è che sempre all'interno della stessa relazione lui faceva un parallelo anche usando questa terminologia che piace tanto ad alcuni economisti che rispetto al PIL di un paese il turismo for all il turismo per tutti ad esempio rappresenta il 15% di un'economia del paese quindi stiamo parlando di dati molto importanti ma anche se io volessi prendere semplicemente i dati statistici in una popolazione europea che ammonta più o meno a 400 milioni di persone ci sono più di 80 milioni di persone quindi più del 20% di persone che fanno fatica a spostarsi che non possono scegliere di andare in vacanza che non possono scegliere di andare a vedere o a visitare un luogo della cultura però l'accessibilità proprio perché non è solo un gradino la dobbiamo declinare come un elemento che può sopravvivere solamente se fa sistema ad esempio spesso quando ci sono grandi nomi penso a Renzo Piano ha progettato questo bellissimo parco della musica questo auditorium a Roma molto bello non voglio entrare nel merito delle chiavi estetiche o di design però c'è un problema quando io arrivo all'ingresso del parco della musica per raggiungere l'auditorium o ad una delle sale dove ci sono dei concerti dovrei percorrere a piedi almeno un chilometro e mezzo voi capite che percorrere lunghe distanze è un problema per tante persone non solo per chi ha delle difficoltà negli spostamenti ma per tante le persone anziane le persone anziane sono completamente escluse dalla possibilità di frequentare i luoghi della cultura perché dicevamo ieri sera con te appunto che nei nostri musei siamo fortunati ad esempio se ogni tanto troviamo qualche sedia ma non è quello il concetto di seduta non solo dal punto di vista della funzionalità ma perché dentro un percorso espositivo per parlare di un museo il fatto di potersi riposare che è un diritto a cui ognuno di noi avrebbe bisogno anche dal punto di vista ergonomico ogni circa 150-200 metri non dovrebbe essere una seduta passiva estraneante dall'esposizione che tu mi stai proponendo dovrebbe essere un luogo dove io posso nello stesso tempo riposarmi però continuare a interagire con il percorso espositivo continuare ad avere informazioni però qual è il problema anche dal punto di vista dell'accessibilità è che per esempio le sedute sono terrificanti è un po' come quello che succede nelle panchine nei nostri giardini sono talmente basse senza braccioli che se per caso una persona anziana ci cade sopra ne rimane prigioniera è difficile che si rialzi e poi la cosa più bella sono i materiali con cui vengono realizzate queste panchine che sono materiali metallici quindi io d'estate li posso utilizzare come griglie d'inverno invece ne sto lontano perché non li posso toccare perché non c'è neanche l'accortezza di metterci una vernice che magari evita il fatto di sentire questo freddo che ci fa rimanere a distanza invece la panchina potrebbe essere costruita in maniera semplicemente un pochino più intelligente spendendo anche di meno e meglio di conseguenza mettendoci dei braccioli integrando la seduta con lo schienale con un materiale che non riflette l'irraggiamento solare e che permette alle persone di sedersi e rialzarsi spesso parlando di file adesso si cominciano a vedere al posto delle sedute tradizionali i cosiddetti appoggi schiatici sono delle sedute che invece di essere delle sedute tradizionali poi ve le farò vedere sono degli appoggi in cui io invece di sedermi mi appoggio le posso fare a diverse altezze in modo che un bambino piuttosto che una persona molto alta si appoggi tranquillamente e che però non abbia il problema di rialzarsi si può riposare e può continuare tranquillamente il suo percorso questo lo dico perché spesso l'accessibilità viene confusa con qualcosa che riguarda una nicchia prima con Claudia si diceva proprio questo guardate l'accessibilità non è una nicchia non è un corso di laurea non è una specializzazione è uno strumento è uno strumento che dovrebbe far parte del diritto di cittadinanza delle persone tant'è vero che deve uscire dalle aule universitarie e cominciare a entrare soprattutto nelle scuole noi lavoriamo tantissimo con le scuole soprattutto con e non solo ma insomma soprattutto con le scuole primarie pensate qualche tempo fa noi lavoriamo per esempio molto sulla segnaletica coinvolgendo i bambini e le bambine perché perché i bambini e le bambine ci pongono le soluzioni a livello di immagini pittogrammi e parole che sono talmente semplici talmente intuitive che sono perfettamente funzionali per essere comprese da chiunque soprattutto dagli adulti allora io avevo da affrontare un tema che riguardava per esempio il museo del risorgimento di Lucca il museo del risorgimento di Lucca è un museo situato all'interno delle mura cittadine quindi un contesto storico molto pregevole con una pavimentazione che non si può toccare ma si può solo guardare però c'è un problema il problema è che la biglietteria il bookshop dista 500 metri dall'ingresso del museo allora chiaramente se io avessi utilizzato il solito circuito perverso sarei andato da un tecnico e il tecnico mi avrebbe consigliato di mettere non so la pavimentazione il sistema logges che voi conoscete che abita purtroppo aggiungo molti contesti urbani prevalentemente le troviamo non solo ma insomma prevalentemente in corrispondenza di aeroporti stazioni attraversamenti pedonali che però ha un problema il problema è che ha un costo di manutenzione elevatissimo e siccome poi nessuno a livello di istituzioni pubbliche lo può manutenere questo sistema si rovina diventa inutilizzabile e addirittura finisce per essere di ostacolo ad altre persone perché magari non so i codici che sono quelle bolle o quelle righe sono un po' troppo spesse e io faccio difficoltà a camminare se ho una sedia a rotelle ma se ho un bastone o anche se sono un bambino che sto correndo o anche io sono molto distratto anche per me è un problema allora abbiamo portato questo caso in aula e i bambini e le bambine da soli ragionando hanno trovato una soluzione dal mio punto di vista interessante perché praticamente hanno disegnato e poi realizzato siccome il museo affronta il tema della guerra delle orme che rappresentano le ruote di un carro lo stivale di un soldato lo zoccolo di un cavallo lo stivale di una donna o la scarpa di un bambino le abbiamo realizzate in una resina particolare che abbiamo potuto incollare alla pavimentazione preesistente perché si stacca facilmente e non rovina il preesistente le abbiamo messo sopra la vernice fotoluminescente cioè vuol dire che loro trattengono l'irraggiamento solare lo restituiscono la sera quindi praticamente illuminano il percorso senza spendere nulla hanno uno spessore di circa due millimetri le abbiamo incollate e se io sono un turista straniero o chiunque e mi reco in questo museo a fare i biglietti non ho bisogno di chiedere niente a nessuno seguo naturalmente il percorso delle orme e entro all'interno del museo allora questa è una soluzione economica creativa che sta dentro i parametri della normativa e che però magari non piace tanto al sistema delle industrie soprattutto quelle degli ausili perché mette un po' in difficoltà alcune scelte terrificanti io sono un po' ossessionato dalla simbologia dalla segnaletica ma anche dagli ausili pensate a quello che succede nei servizi igienici se io entro in un servizio igienico la prima cosa che noto sono questi maniglioni bianchi abbacinanti ospedalizzanti che spesso sono montati come se dovessi fare un percorso di guerra e che purtroppo poi non restituiscono nessuna funzionalità oltre che non sono previsti dalla normativa e allora qual è la caratteristica più perversa di questi maniglioni è che costano dieci volte quanto costano la rete tradizionale se io assemblo diversamente quello che già esiste in commercio ottengo un ambiente che svolge più funzioni di quelle a cui dovrebbero essere deputate i maniglioni ma che è un ambiente che usiamo tutti non è un ambiente che mi costringe di nuovo a ragionare per stereotipi per presunte categorie di persone che fortunatamente non esistono ecco e però è importante anche quando ragioniamo sull'accessibilità non utilizzare mai un linguaggio neutro io spesso girando per l'Italia dove abbiamo molti progetti alcuni di questi poi ve lo farò vedere magari osservo una segnaletica che è interessante dal punto di vista non so dell'armonia dell'equilibrio che c'è tra il sistema delle altezze il contrasto cromatico l'illuminazione i materiali il rilievo poi però all'interno di quella segnaletica ci trovo scritto toilette per handicappati beh voi capite che utilizzare quel linguaggio mi proietta indietro nella preistoria esattamente come cerca di inchiodarmi quella simbologia tremendamente efficace della carrozzina però siccome noi in Italia siamo molto bravi anche nell'utilizzare terminologie innovative no? ora se ci avete fatto caso ultimamente la terminologia più in voga è diversamente abile no? una sorta di ansiolitico linguistico dal mio punto di vista nel senso che è una parola che arrotolo con gusto in bocca e poi la restituisco con enfasi al pubblico cercando di cogliere insomma un plauso no? è un po' una rincorsa scomposta a una normalizzazione verbale ma la cosa più triste è che diversamente abile è presente nel codice della navigazione aerea cioè è una legge dello Stato italiano ma perché diversamente abile non va bene? non va bene perché l'Unione Europea ci dice da anni guardate usate la parola persona con disabilità perché diversamente abile fa un'operazione terribile quando io comunico con voi e uso diversamente abile innanzitutto dal mio ragionamento cancello la persona e uso un avverbio che connota negativamente una presunta abilità che tutti dobbiamo avere a fare qualcosa se io uso persona con disabilità innanzitutto mantengo al centro del mio ragionamento la persona in questo caso con disabilità indica semplicemente una delle tante caratteristiche che ognuno di noi si può trovare ad avere nell'arco della propria vita avere gli occhiali avere i capelli di un colore piuttosto che di un altro essere bassi alti obesi noi abbiamo 4 milioni e mezzo di obesi in Italia che non hanno nessun tipo di risposta in termini di arredi e servizi stiamo parlando di numeri importanti allora quando parliamo e comunichiamo di accessibilità dovremmo cercare di usare dei termini corretti e quindi vi invito a usare persone con disabilità non per motivi squisitamente estetico formali ma per motivi sostanziali perché vi racconto una cosa abbastanza divertente se non fosse anche un po' triste qualche anno fa c'è stato un deputato che voleva imporre per legge la terminologia diversamente abile allora quando siamo andati insomma a discutere all'interno dell'aula parlamentare mi ricordo la mia amica Ileana Argentin che è una deputata tetraplegica ancora oggi deputata nell'ambito della discussione gli fece alcune domande guarda questa tua gli disse questa tua rivoluzione sociolinguistica è veramente bellissima però mi vengono alcuni dubbi che volevo condividere con te ad esempio dice mi viene in mente quando dovremmo discutere non so delle problematiche che riguardano l'assistenza domiciliare o di quelle che riguardano il sostegno economico come ci dovremmo esprimere come dovremmo parlare ah sì forse di diversamente maturi o di diversamente benestanti poi però il mio cruccio più grande è quando dovremmo affrontare altre tematiche come quelle per esempio dei flussi migratori o addirittura delle coppie di fatto come dovrei dire aiutami tu ma forse non so diversamente colorati diversamente eterosessuali però io ho un imbarazzo troppo grande per non per tacere insomma perché poi quando io mi devo occupare di comunità di recupero cioè come devo parlare come mi devo esprimere di diversamente lucidi di diversamente astemi però guarda mi hai convinto gli disse Riana mi hai talmente convinto che però ti voglio fare un'altra domanda perché quando grazie a questa tua magnifica rivoluzione linguistica avremmo curato tutti come cavolo dovremmo chiamare queste persone ex diversamente abili comunemente abili o diversamente diversamente abili allora voi capite perché le parole si arrotolano in bocca e ci restituiscono in questo caso una situazione grottesca che però purtroppo si traduce nella gazzetta ufficiale della nostra repubblica e quindi noi siamo costretti a leggere diversamente abile mi ricordo sempre che il mio amico Carlo Giacobini quando si parla anche di linguaggio e ci troviamo a confrontarci insomma sulle diverse abilità o su quello che qualcuno si ostina a chiamare diverse abilità mi dice sempre beh guarda diversamente abile in realtà io ho sentito anche una terminologia ancora più convincente se non fosse che ha anche un sentore boccaccesco diversamente dotati qualcuno dice diversamente dotati perché ci sono i normodotati allora è un po' come se qualcuno costringesse tutte le persone che magari possono avere le difficoltà a coltivare un campo incolto e gli chiedesse di farlo non come fanno i comunemente abili ma prendendo chi una stampella chi un ausilio chi un ausilio per la vista e gli chiedessimo di zappare questo campo per fare qualcosa per essere freneticamente abili Bosch Hieronymus Bosch quindi non quello dei Trapani ma l'artista olandese se non fosse diversamente vivo probabilmente ne farebbe un gustoso ritratto e dipinto dai tratti unirici però molto rispondente alla realtà e allora quando parliamo di accessibilità ecco noi dobbiamo fare attenzione anche a come ne parliamo perché ripeto il linguaggio non è neutro e serve anche a rivoluzionare un po' il nostro immaginario l'immaginario fatto da continui stimoli che purtroppo ci producono un quadro che differisce dalla realtà e non parla delle persone reali come vi dicevo all'inizio spesso durante i corsi ci capita di fare lo faremo anche con voi queste due giornate di pomeriggio di fare anche delle simulazioni mi ricordo una volta con un mio amico giornalista che è su una sedia a rotelle decidemmo di con gli studenti e le studentesse di andare davanti a un istituto bancario una banca per fare una rapina e quindi indossammo tutti e due un passamontagna lui montò una pistola d'acqua sulla sua carrozzina e nell'andare davanti alla banca come al solito ci siamo approcciati con un meccanismo infernale che è quel tornello che è terribile perché non è scomodo e inaccessibile solamente per chi ha difficoltà negli spostamenti ma anche per me che soffro di claustrofobia o per una persona un po' obesa per una persona a cui dà fastidio essere costretto e stare in un luogo angusto quindi per tante persone e allora cosa succede che io spesso ho degli ingressi differenziati dovevano essere meno visibili possibili quindi nascosti quindi il primo problema è trovare questo secondo ingresso quando siamo riusciti a trovarlo l'altra scoperta che quasi normalmente si fa è che c'è un bellissimo campanello che però è un po' troppo alto non solo per la persona in carrozzina ma anche per me che non sono particolarmente alto e quindi io saltando sono riuscito comunque a premere questo campanello di questo ingresso secondario in banca si è creata una situazione di panico perché c'era molto imbarazzo perché ci vedevano fuori col passamontagna con la pistola d'acqua dopo un po' si vede scendere qualcuno dai piani alti presumibilmente era il direttore della filiale si avvicina apre un piccolissimo varco nella porta e ci chiede ma voi volete fare veramente una rapina ci vede noi abbiamo il passamontagna la pistola certo che vogliamo fare una rapina lui era un po' disorientato allora cerca di prendere consigli dalla clientela che sfortunatamente per lei si trovava in quel momento nell'istituto bancario in quella filiale si riavvicina a noi chiudendo ancora un pochino questo varco e ci dice guardate io sono molto imbarazzo ma non so proprio come comportarmi allora noi gli abbiamo detto guardi la togliamo noi dall'imbarazzo facciamo una cosa se lei non ci fa entrare a fare una rapina noi chiamiamo la polizia ma come la polizia la dovevo chiamare io allora si nasce una situazione abbastanza curiosa fortunatamente questa persona come capita anche con altro ci ha dato poi l'autorizzazione a usare questo materiale come materiale didattico proprio per lavorare sul rovesciamento dell'immaginario però la cosa interessante di questa situazione è che poi grazie a questo pretesto questo istituto bancario ci ha chiesto di lavorare sull'accessibilità di quel luogo che non vuol dire solo lavorare sul banco o sull'ingresso vuol dire lavorare per esempio sugli arredi sull'illuminazione sulla modulistica quindi quella filiale è diventata complessivamente accessibile più comoda aggiungo che è successo che in questa filiale c'è stato un aumento della clientela negli ultimi due anni del 40% che è un po' è un po' strano ma soprattutto fatto di persone anziane ma non solo che erano semplicemente più comode nell'accedere non solo all'istituto bancario fisicamente inteso ma ai servizi che la banca poteva offrire oppure non so mi è capitato recentemente di entrare con una mia amica anche lei tetraplegica su carrozzina sempre con un'aula in un negozio di intimo femminile no? allora io e lei facevamo finta di essere marito e moglie siamo andati verso la commessa e lei gli ha detto guardi io vorrei acquistare un tanga rosa la commessa dopo un po' di perplessità rivolgendosi a me mi ha detto ma siete sicuri che volete acquistare un tanga rosa io gli ho detto guardi io ancora non ho deciso se indossarlo ma preferirei che ne parlasse con mia moglie perché glielo sta chiedendo lei quindi la commessa si rivolge a lei con una scusa faccio finta di ricevere una telefonata esco e lei si avvicina alla commessa e sottovoce le dice guardi poi le devo confessare che questo tanga non è neanche per mio marito perché io lo tradisco ho un amante la signora non ce l'ha fatta più è sbottata ha detto no adesso un tanga per una persona con disabilità addirittura adultera non è possibile e allora anche questo diciamo è un materiale che fortunatamente la signora ci ha utilizzato a utilizzare in momenti come questi però sono materiali significativi per far copire come ci si approccia alla disabilità l'accessibilità perché io se vado con questa mia amica in un parco e magari parliamo io non vengo mai scambiato per esempio per un fidanzato o per un compagno di quella ragazza vengo scambiato per uno che fa servizio civile ma non è questo il mondo delle persone di tutte le persone noi dobbiamo cercare un po' di dissipare questi veli linguistico culturali che permeano il modo che poi ci condiziona anche nella progettazione perché quando dobbiamo per esempio affrontare non so come rendere accessibile un percorso museale noi utilizziamo spessissimo ad esempio quello che si chiama progettazione plurisensoriale che non è qualcosa di astratto vuol dire semplicemente mettere a disposizione delle persone una serie di stimoli integrati tra loro che sono tattili olfattivi termici sonori e che non puntano tutto sulla vista noi purtroppo viviamo in una società che è affagocitata dall'ipervisione però se io e Claudia ci prendiamo un caffè insieme e parliamo e lei indossa un paio di occhiali scuri io già entro un po' in difficoltà noi abbiamo molti sensi di cui poi vi parlerò un pochino più diffusamente che ci siamo persino dimenticati di avere e che invece sono fondamentali nella comprensione di un luogo nell'orientamento all'interno in un contesto urbano pensate non so in una sentieristica come può essere interessante la dimensione olfattiva semplicemente mettere non so nel corrimano un legno resinoso o delle essenze che mi danno degli indizi sulla direzione e mi fanno capire dove mi devo muovere oppure pensate alla valenza che può avere mettere una fontana in un parco sicuramente c'è anche una valenza estetica perché è bella però il rumore dell'acqua mi aiuta a costruirmi più velocemente la mappa di quel luogo e se io magari sono un bambino o una bambina ritorno su quel luogo sento il rumore dell'acqua e ho già più semplicità nel ricostruirmi la mappa di quel luogo e quindi la progettazione plurisensoriale ci costringe a riutilizzare quei sensi che poi ci danno anche un senso estetico differente io ho tanti amici ciechi sono magari alcuni di loro sono anche degli artisti e spesso mi dicono certo che la vostra vista vi restituisce un senso estetico veramente terribile prova prova che cosa vuol dire comprendere una statua o leggere un dipinto integrando la vista con gli altri sensi e vedi che il tuo senso estetico non solo è molto più articolato ma è molto più bello dico bello non a caso perché una cosa importante anche nell'accessibilità è riscoprire il diritto alla bellezza il diritto alla bellezza dei luoghi è parte integrante dell'accessibilità cioè io ho diritto che qualcuno sappia rappresentare i miei bisogni ma io ho diritto che qualcuno sappia tradurre anche i miei desideri io per esempio ho diritto al fatto che un oggetto sia piacevole e semplice da utilizzare ho diritto che una cosa sia facilmente utilizzabile e non mi costringa a fare fatica voglio semplicemente farvi degli esempi visivi per capire di cosa stiamo parlando no? ad esempio questa è una semplicissima e banalissima tra virgolette maniglia di una porta voi sapete che ad esempio normalmente le porte sono collocate ad un'altezza di circa 105 cm però se io sono una persona sul sedio a ruota o un bambino avrei bisogno che quella maniglia fosse collocata più o meno intorno ai 75 cm questa maniglia che è in commercio si chiama ladino costa nemmeno 20 euro tra l'altro è anche molto bella dal punto di vista del design e dei materiali copre esattamente questa forbice tra i 75 e i 105 cm ma qual è la cosa più rivoluzionaria? è che se io mi avvicino a questa maniglia se io mi ci appoggio se io la mando a destra a sinistra se io la spingo la porta comunque si apre senza che io faccia difficoltà davanti a una maniglia io di solito la prima cosa che mi chiedo a parte avere una certa diffidenza ora che devo fare? devo premerla abbassarla davanti a questo oggetto io non mi devo fare domande io mi ci avvicino e qualsiasi movimento faccio la porta si apre questa è una dimostrazione simbolica ma anche molto concreta di come alcuni oggetti di uso quotidiano se progettati e realizzati con un po' di buon senso e anche di gusto nel design e nei materiali passano a semplificarci anche gesti che quotidianamente facciamo senza ormai pensarci voi capite che questa filosofia questa progettazione applicata su scala reale a contesti molto molto complessi ci restituisce degli ambienti che sono belli amichevoli comodi voglio farvi vedere alcune cose che magari possono sembrare strane ma vi dicevo prima dei servizi igienici e allora oltre ai maniglioni nei servizi igienici ci sono i sanitari sospesi non so se qualcuno ci fa caso io quando capito in un servizio igienico mi porto le corde da speleologo per cercare di arrampicarmi su uno di questi sanitari sospesi perché sono improponibili per tutte le persone no? questo sanitario ha una caratteristica costa la metà di quanto costa un sanitario tradizionale però scorre se io tocco quel pulsante senza premelo ci passo semplicemente la mano posso utilizzare anche un comando vocale questo sanitario si colloca all'altezza migliore per me allora perché io devo ragionare ancora sul servizio igienico per gli uomini sul servizio igienico per le persone con disabilità tempo fa ci fu una studentessa di una scuola di Prato che scrisse dall'allora presidente della Repubblica e gli disse ma caro presidente io mi sono preso la briga di leggere la nostra normativa anche per quello che riguarda i servizi igienici e devo dire che non ho mai trovato un bagno per le persone con disabilità come mi devo considerare io una sorta di terzo sesso o un soggetto assessuato perché se io vado a leggere la normativa la normativa mi dice semplicemente tra virgolette di realizzare un bagno accessibile a tutti gli uomini e un bagno accessibile a tutte le donne eppure noi in tutti i nostri spazi troviamo il terzo bagno lasciamo perdere come lo troviamo perché spesso è chiuso è un magazzino io recentemente sono stato in Abruzzo e mi è capitato appunto di andare lì all'ultimo momento e quando ho chiesto di avere una stanza in questo hotel la persona alla reception con un po' di imbarazzo mi ha detto guardi io non so come dirglielo però mi è rimasta solo una stanza per disabili io insomma lui ha visto la luce nei miei occhi e ho detto ah ma meno male ho detto io perché vuol dire che è più comoda ma come mi ha guardato dice no sa mi fa piacere che lei mi dica così perché difficilmente riesco a collocare queste stanze ho detto guardi se lei mi dà una stanza accessibile facciamo perdere il termine in questo caso vuol dire semplicemente che anche io ci sto più comodo il problema è che non ci dovrebbero essere le stanze accessibili a qualcuno e non ci dovrebbero essere un numero di stanze accessibili a qualcuno e il punto è che l'accessibilità vuole semplicemente provare a dimostrare che se io progetto e realizzo un luogo che sia utilizzabile da maggior numero di persone non mi devo preoccupare di fare di fare un servizio per qualcuno una visita guidata per qualcun altro e qui apro una parentesi purtroppo anche in Italia noi scambiamo per buone prassi quando un museo o un parco mette a disposizione di qualcuno delle visite guidate o realizza una sezione tattile non è questa l'accessibilità l'accessibilità vuol dire costruire dei luoghi dei spazi dei servizi che servono anche a far incontrare le persone anche da un punto di vista multigenerazionale perché se noi ragioniamo su contesti separati facciamo un po' quello che succede non so quando utilizziamo il braille voi sapete che il braille è un linguaggio a puntini che si vede abbastanza spesso anche in alcuni contesti di segnaletica però c'è un problema se ci pensate che il braille è un linguaggio che all'interno della popolazione cieca è conosciuto solamente dal 15% degli stessi ciechi e poi soprattutto è un linguaggio che si rivolge a qualcuno è un linguaggio chettizzante esiste invece una normativa uni che è la 8207 che ci dà un'indicazione semplice e diversa cioè ci dice se tu devi fare un pannello una forma di comunicazione usa le lettere del nostro alfabeto le fai alte tra i 15 e i 60 millimetri larghe almeno 2 millimetri e con uno spessore che va dai 4 ai 6 millimetri se tu usi questa arcottezza una persona cieca dalla nascita un bambino chiunque può leggere esattamente la stessa forma di comunicazione non c'è la necessità di fare per forza un linguaggio che sappia comunicare a una categoria di persone l'informazione che gli voglio dare io mi devo sforzare di costruire quegli strumenti culturali ma anche tecnici che mettono in grado le persone di leggere le stesse cose di apprezzare gli stessi luoghi di viverli e noi per esempio siamo molto attenti anche alla dimensione olfattiva all'olfatto l'olfatto è il nostro senso più primordiale quello che ci evoca nella memoria soprattutto i ricordi legati al passato però l'olfatto è un indicatore formidabile nell'orientamento in un luogo per esempio ultimamente abbiamo fatto un esperimento in un agriturismo molto grande a Lucca quando le persone arrivavano alla reception e dovevano ricevere istruzioni oltre alle chiavi su come trovare la stanza noi abbiamo costruito un'associazione tra i cromatismi e la dimensione olfattiva e le persone non gli davamo il numero della stanza gli dicevamo semplicemente segui queste tracce olfattive o cromatiche non c'è stato una persona che ha avuto difficoltà nel trovare la stanza l'olfatto non è una cosa banale noi siamo abituati a qualcuno che evapora un prodotto a formule prevalentemente che hanno delle connotazioni chimiche che tra l'altro hanno anche molte problematiche di diversi tipi ma il nostro studio sulla dimensione olfattiva ci restituisce dei prodotti non solo che sono assolutamente naturali e non contengono alcun tipo di controindicazione nel senso che non procurano nessun tipo di allergia se un bambino per sbaglio le ingerisce non succede nulla ma soprattutto non sono un corpo estraneo al materiale con cui realizzo la soluzione ma fanno parte integrante del materiale mi fa particolarmente piacere tra l'altro che in aula oggi rivedo dopo alcuni anni Emanuela che tanti anni fa in Abruzzo ha partecipato ad una delle nostre iniziative di formazione proprio sulla valorizzazione dell'accessibilità del patrimonio culturale attraverso l'accessibilità e che poi ha potuto anche sperimentare alcune soluzioni per esempio nel caso di una mostra che abbiamo fatto a Palermo queste erano prevalentemente delle icone bizantine queste icone bizantine rappresentavano quasi in tutti i casi dei santi Cosmo e Damiano in particolare che erano dei medici allora noi abbiamo sempre in chiave artistica mai commerciale cioè utilizzando dei bei materiali e una realizzazione di un altro rilievo che restituisce la possibilità di percepire al tatto anche la piacevolezza e la bellezza del materiale attraverso le texture e il senso del colore però questi materiali contengono gli unguenti che ci sono Grazie.